bello a tutti ragazzi siamo tornati qui in un nuovo video perché fai un video nel mio video perché ragazzi mi piace fare i video quando gli altri fanno i video e allora ragazzi questo sarà un video da giocare in due in un video non gioca marco ma saremo in due casuali io userò scegli speriamo che mi capitano un colto voglio ragazzi poggio ragazzi al 5 raga godo un botto seguite k e seguite pure il dragone rosso aiuto ma male ma sono aia mi hanno tolto 2000 con una sfera no no way ho c'ho uno c'è una coppia di drogati come veramente in che senso di drogati di drogati va bene leon di drogati nel senso è troppo drogati ho chiuso la registrazione e come ti siano stavano sbatti il telefono e chiude ragazzi c'ho una pop per contro e toglie 2006 da vicino raga dopo questo video ve lo farò il box opening la prossima settimana ragazzi se volete vedere the box opening passate al mio canale non passate al suo canale non fate niente nel suo canale perché lui è un porco ma non è una mia io lo sponsorizzo e k però tu devi sponsorizzare me tu non hai sponsorizzato nemmeno te ne hai sponsorizzato e di sponsorizza e ma io ti sto sponsorizzando dal video di prima non parlare non parlare guarda qua leggi che c'è scritto e poi guarda le foto ok di bala gioco ragazzi che c'è scritto e poi guarda le foto di bala esce anche se non Ronaldo c'è la foto di higuain che esce perché 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 chi è entrato ragazzi tutto strano a questo gioco è uscito è un bellissimo gioco poi ma che ce la fai boss ragazzi stanno parlando di calcio non non fate niente ragazzi su internet è strano internet è bugato peggio della morte e ragazzi godo sostegnato il napoli 0 3 3 napoli si e no a tavolta tipo pure io per napoli raga chiudo la registrazione perché non voglio